Hanno patteggiato la pena a due anni, tre degli undici imputati raggiunti lo scorso luglio da ordinanza di custodia cautelare per associazione a delinquere dedita alle truffe assicurative nell'ambito dell'operazione First Aid condotta dalle fiamme gialle ditta Ormina e coordinata dalla procura di Messina. A patteggiare Concetto Parisi e Luca Fazio Giarresi, entrambi assistiti dal difensore di fiducia Enzo Iofrida e Carlo Nastasi di Mascali difeso dal legale Giuseppe Testa. Per tutti il sostituto procuratore della DDA Peloritana, Liliana Todaro, aveva chiesto e ottenuto il giudizio immediato. A Carlo Parisi, incensurato, sono stati anche revocati gli arresti domiciliari. Diverso il destino per il padre Lucio Parisi, ritenuto dall'accusa il Deus Ex Machina insieme a Sebastiano Messina del sodalizio criminale che negli anni avrebbe simulato centinaia di falsi sinistri, ottenendo risarcimenti milionari dalle compagnie assicurative. A luglio furono sequestrati complessivamente 3 milioni, tra soldi depositati sui conti correnti e immobili. Lucio Parisi, che ha optato per il rito abbreviato, insieme a Carmelo Compagnino, Massimo Donato, Salvatore Moschella e Rosario Genati, resta rinchiuso in carcere. Tutti e quattro, il prossimo 5 febbraio, compariranno davanti al GUP di Messina Monica Marino. Per Sebastiano Messina, Rosario Daniele Furneri e Antonino Ruberto, invece, il processo si aprirà il 15 gennaio al Tribunale di Messina, quando prenderà il via il dibattimento. Altra posizione centrale è quella di Rosario Genati, medico al pronto soccorso dell'ospedale San Vincenzo di Taormina. L'uomo è accusato di aver fornito, in cambio di denaro al sodalizio, falsi certificati medici necessari per ottenere i risarcimenti dalle compagnie assicurative. Ma l'inchiesta vede complessivamente ben 48 indagati, ognuno dei quali avrebbe preso parte con un ruolo alle truffe. Ognuna di esse avrebbe garantito, in media, un guadagno di 10.000 euro. Tra gli indagati è anche il direttore dell'ufficio postale di Altarello, a Giarre, Vincenzo Caruso. L'uomo avrebbe detenuto per conto di altri libretti postali su cui confluivano i risarcimenti delle compagnie assicurative, circostanza su cui gli inquirenti starebbero ancora indagando per definire le eventuali responsabilità. Grazie a tutti.